Amici di Tennis Press, siamo in compagna di Davide Pontoglio, campione italiano di seconda categoria. Ciao Davide, ti faccio i complimenti per questo grande titolo che hai raggiunto nella giornata di ieri, in finale contro Acquaroli, una partita combattutissima, una piccola disamina sulla settimana che hai vissuto qui in questo Open e poi l'emozione di alzare il titolo di fronte ai tuoi parenti, genitori e zii. Niente, è stata una bellissima settimana, sono stati dei giorni intensi e abbastanza faticosi perché comunque per vincere il titolo mi ci sono volute sette partite e ho faticato il primo match dove ho vinto al terzo e negli altri match ho iniziato a giocare sempre meglio e ho sempre vinto agevolmente in due set e la finale è stata abbastanza combattuta in tre set però sono felice di aver vinto questo titolo. Torni a Roma dopo l'esperienza delle prequalificazioni all'internazionale BNL d'Italia, Caria sta respirando qui al Due Monti Sporting Club, un circolo bellissimo in mezzo del verde, le strutture sono ottime, i soci comunque sono numerosi sugli spalti per vedere i vostri match. Sì, sempre un piacere tornare a Roma, comunque è una città bellissima, ho già giocato le prequali a maggio dove avevo perso con Thomas Fabiano e adesso qui giocherò il main draw del Challenger, sono contentissimo perché comunque è un'esperienza nuova per me perché è la prima volta e il sorteggio diciamo che tra tutti i giocatori che c'erano in gara ho pescato abbastanza bene e spero di potermela giocare e fare una buona partita. Perché ricordiamo che appunto al vincitore dell'Open di seconda categoria è stata data in premio la wild card per il tabellone principale del BF di Challenger, il tuo avversario sarà Bastian Trinker, ostriaco comunque è l'ultimo dentro del tabellone quindi il sorteggio sorride che va chiaramente un match da affrontare con la massima attenzione perché è un giocatore molto molto esperto. Chi ringrazio per questa settimana, per questo titolo dei campionati italiani? Ringrazio la mia famiglia e soprattutto i miei genitori che mi appoggiano sempre e anche i miei zii che ieri sono venuti a vedermi e dedico questa vittoria a tutta la mia famiglia. Ok, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo per che tu possa giocare il miglior match della tua vita contro Trinker e speriamo di vederti qui anche per tutta la settimana e farci insomma vedere il bel tennis che hai proposto anche nell'Open. Grazie mille! Ti ringrazio, da Roma è tutto, per Tennis Press Alessandro Re, un saluto a Davide Montoglio. Grazie mille!